Il super bonus a 110% resterà a percentuale piena nei comuni del cratere 2009-16-17, ma a quanto pare per lavori riconducibili al sisma non in modo generalizzato per tutte le abitazioni. L'annuncio è stato dato ieri sera dai senatori di Fratelli d'Italia, Guido Liris e Detelzi Gismondi, che hanno parlato di un risultato molto importante che era atteso. Le modifiche quindi non riguarderanno il cratere e resteranno invariate sino al 2025. Il governo conferma il super bonus sulle quote di accollo per gli edifici resi inagibili dal sisma per tutto il 2025. Dal 2023 l'accesso al super bonus nei casi fuori dal circuito della ricostruzione post-sisma sarà differente rispetto al passato. Cambia la percentuale che scende al 90% ed è destinata a scendere negli anni successivi per condominioni familiari riammessi alle agevolazioni. Cambia anche il calcolo con il nuovo metodo di quoziente familiare. Oltre i 60.000 euro di reddito complessivo non si avrà diritto riguardo alle nuove pratiche e non lavori già approvati. Dall'ordine degli ingegneri però una richiesta di maggiore chiarezza. Il tema verrà approfondito a breve. Vorrebbero che la misura fosse per tutti gli interventi. Le criticità sono ampie. Riprendere le attività è giusto. Quello che non abbiamo ancora capito, se questo status quo ante, mantenere quello che era lo status quo ante, vale solo per le opere connesse al sisma o per tutto il cratere, per tutte le opere sul cratere. Ci piacerebbe la seconda perché le problematiche che abbiamo legate al sisma le abbiamo come zona. Quindi non è solo gli edifici che ancora devono essere ristrutturati, ma tutti quanti hanno le stesse criticità. Quindi sarebbe opportuno che mantenere la situazione attuale valga anche per gli immobili che hanno già avuto il contributo dei lavori effettuati e che possa permettere loro di sfruttare il super bonus per poter migliorare sia l'aspetto energetico ma soprattutto l'aspetto sismico. Rimane il problema della cessione del credito che riguarda molte imprese. Anche su questo il governo promette un intervento. Quanto riguarda i contributi in essere forse potrebbe essere opportuno convincere, tra virgolette convincere, gli istituti di credito a cui viene affidato il contributo, quindi tutta la gestione della fase economico-finanziaria, anche che facessero oltre questo anche una cessione di credito per le opere aggiuntive a quelle che sono il terremoto, che riguardano il sisma, perché se da una parte vi è un'entrata, un flusso di denaro, dall'altra parte potrebbe esservi anche parimenti per permettere l'ultimazione delle opere, ridare qualcosa al territorio, il territorio nel senso più lato possibile, permettendo quindi una cessione di credito a fronte del contributo affidato all'istituto di credito per le opere da sisma.